Buongiorno a tutti, sono Lionel Manfredonia, ex giocatore di Juventus, Roma, Lazio e nazionalità italiana. Volevo esprimere la mia solidarietà al popolo maltese in guerra, come noi, contro questo nemico invisibile che verrà affrontato con grande forza, con grande determinazione e con grande fede. Mi auguro che da qui a un paio di mesi le cose possono migliorare e così avrò la possibilità di poter venire da voi per festeggiare questa grande vittoria. Grazie a tutti. Grazie a tutti.